La mia perplessità qual è? Chi ha lo spazio all'aperto può lavorare e chi non ce l'ha deve essere penalizzato. Non mi sembra proprio questo il caso. È come se si formassero due categorie di commercianti. Per me dovrebbero riprendere a lavorare tutti. Il nuovo decreto Covid dovrebbe avere particolare attenzione verso le esigenze del commercio e la ristorazione, secondo il sindaco di Creazzo, che nei limiti della sua funzione aveva cercato già di agevolare. Il plateatico già da un anno è gratuito per i commercianti. Poi valuteremo cos'altro poter fare proprio per dare loro supporto. Secondo Cardin è fondamentale del provvedimento governativo la scuola. Come insegnante le posso dire che i ragazzi devono tornare a scuola, perché per me è fondamentale la lezione in presenza. Resta il nodo del trasporto scolastico, perché lì bisogna proprio potenziare, perché lì c'è assembramento, si creano assembramenti. È fondamentale ritornare in presenza anche se siamo alla fine dell'anno scolastico. Abbiamo ripreso un po' le attività anche nelle palaestra, che hanno stato sospese, quindi hanno ricominciato le attività in palaestra per gli studenti, sempre nel rispetto del protocollo. Speriamo di poter concludere, ormai siamo alla fine dell'anno scolastico, speriamo di poter concludere in presenza e soprattutto che procedano le vaccinazioni e poter ripartire con l'anno scolastico in normalità.